I militari della stazione Carabinieri di Romana hanno svolto un esteso controllo del territorio, in particolare degli ovili ubicati nell'agro di Romana e Roccadori a Monteleone, al termine del quale hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti, tutti gravati da precedenti di polizia e penali, per ricettazione, detenzione abusiva di punizionamento e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il controllo, svolto unitamente ai colleghi dello squadrone li portato cacciatori di Sardegna e scaturito a seguito del rinvenimento nelle campagne di Romana di un furgone provento di furto nel novembre 2019. Inequivocabili le tracce lasciate dal veicolo è direttamente riconducibile ad un ovile situato a breve distanza da ritrovamento e di proprietà di un pregiudicato della zona, noto alle forze dell'ordine. I controlli sono stati quindi estesi in quel fabbricato e relativo terreno ed hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro un ulteriore veicolo da lavoro, risultato provento di furto nel giugno 2019 e quattro batterie da auto trafugate nell'ottobre dello scorso anno. L'accurato controllo dei militari ha infine consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 17 grammi di marijuana e numerose munizioni di vario calibro che illecitamente detenute erano state opportunamente occultate in un muretto a secco nei pressi dell'ovile. L'operazione, cominciata alle prime luci dell'alba e conclusasi nel tardo pomeriggio a causa dell'estesa area sottoposta a controllo, ha in definitiva consentito di recuperare ben 69 mila euro di refurtiva, tra l'altro restituita allo stesso giorno ai legittimi proprietari, questi ultimi ritracciati solo grazie alle precedenti denunce di furto, atteso che da entrambi i veicoli erano state rimosse le targhe.